buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 29 settembre 2020 ben ritrovati cari telespettatori di fano tv siete sul canale 17 e sul digitale terrestre in tutta la regione Marche c'è l'informazione in diretta alle 7 puntuali come tutte le mattine da lunedì al sabato con la lettura dei giornali ci limitiamo ovviamente per ragioni di spazio soltanto alle pagine di peso urbino e ogni tanto andiamo verso Senigallia quindi la provincia di Ancona e allora andiamo subito a vedere i santi il santo di oggi ma oggi la chiesa ricorda in realtà Michele Gabriele Raffaele sono tre arcangeli dei quali anche la Bibbia parla e ricorda con specifiche missioni ovvero Michele avversario di Satana quindi lo si può pregare anche contro il male Gabriele annunciatore e Raffaele soccorritore il sole sorgerà tra pochi minuti alle 7 06 tramonterà le 18 55 uno sguardo al tempo diamo uno sguardo al bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nelle zone interne per la giornata di domani ancora cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in sviluppo però nelle zone montane per il primo di ottobre invece cielo poco nuvoloso più o meno giornate tutte uguali con temperature in lieve aumento condizioni di tempo stabile instabile sulle Marche nelle giornate di venerdì e sabato e adesso i giornali cominciamo dal resto del Carlino questa è la prima pagina dell'edizione di Pesaro contagi aumentati di 30 volte il dato marchigiano da fine giugno l'allarme dei medici trovare contagio è sempre più difficile a centro pagina la foto notizia per la partita più importante di Boruzan direttore generale della vis andrà a Padova per il trapianto di cuore e poi studentessa Urbino positiva all'università scatta l'allarme area vasta sanitari niente premio covid sale la rabbia e poi la lettera io premiata da Mattarella e ignorata dal sindaco il sindaco è quello di Pesaro affano invece un anziano raggirato poi si vendica e incastra il truffatore l'operazione drangheta il boss comprava terreni da noi scatta il sequestro mercatini nel mirino traffico di monete antiche un anziano finisce nei guai progetti per la città strada ciclabile parcheggio all'ex consorzio la nuova arteria collegherà viale Trieste a Pesaro all'altezza del prima porto con viale Trento il basket annullato il fattore campo così non va il DS Cioppi torna sul caso del palace vuoto rimpallo di accuse sulla mancata deroga il corriere adriatico pronti la campagna centropagina d'autunno appaltato il primo stralcio per i lavori del ponte in via Montegrappa pronti 170 mila euro mancano all'appello la sigillatura per via Lamarca e la sistemazione di Borgo Santa Maria centropagina autodilusso con il reddito di cittadinanza casi ai raggi X ad Ancona sono 35.807 marchigiani che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza e tra questi anche diversi casi sospetti evidenziati dai controlli dell'Inps la politica fratelli d'Italia dalla Meloni con il rebus delle quote rosa e poi l'epidemia l'altalena del covid i reparti però non soffrono da una fase 1 in cui l'epidemia galoppava con più di mille nuovi casi positivi a settimana fino alla curva quasi piatta durata due mesi con settimane da un caso al giorno di media e molti zero nei bollettini poi il rialzo iniziato a fine luglio per arrivare alla fase attuale dove i contagi sono aumentati di quasi 20 volte ma i ricoveri per covid restano stabili intanto l'antinfluenzale parte la consegna a medici e primari e pediatri lo stop all'Asur premio virus oppure sarà sciopero e sempre da Pesero Gandini sembra un marziano dice il sindaco tifoso Matteo Ricci rispondendo alle critiche o meglio ad una dichiarazione fatta alla gazzetta dello sport dal presidente della rega basket a proposito delle prossime final eight che ha detto faremo in un impianto prestigioso quasi a dire quello di Pesero no non ci torniamo perché non era il massimo non era granché e quindi Ricci se l'è presa tracce dell'andrangheta invece sigilli al terreno del boss operazione della mobile calabrese nove arresti sequestrato anche un lotto edificabile a frontone truffe sul web e nel parcheggio cinque denunce dalla polizia di Fano allora diamo un'occhiata perché immagino molti di voi si staranno domandando dove stiamo andando anche perché sul fronte covid la partita ancora come sapete non è chiusa e allora non essendo chiusa dobbiamo giocarla e stiamo ci stiamo preparando per questa questo secondo tempo il primo l'abbiamo perso poi c'è stato l'intervallo usando la metafora calcistica quella del dell'estate dove ci siamo un po' sbraccati ma va bene e poi adesso si comincia il secondo tempo e allora secondo tempo come ce lo giochiamo intanto bisogna studiare l'avversario come si fa di solito e qui ci sono dei dati che il resto del Corriere Adriatico anche questa mattina pubblico come fa tutti i giorni con Lorenzo Sconocchini che fa un'analisi della situazione attuale c'è un saliscende del virus in questa fase abbiamo un rialzo che però non affolle i reparti ospedalieri come dire sì ci sono contagi che stanno risalendo ma al momento l'effetto sulle persone è decisamente diverso dal da quello avuto nel primo tempo dove tanti finivano all'ospedale e molti non finivano nemmeno la partita allora non hanno finito neppure la partita ieri i ricoveri sono saliti da 22 a 27 ma solo un positivo su 25 ha bisogno dell'ospedale a fine marzo 71 contagi settimanali ogni 100.000 residenti a luglio invece 0,5 e ora siamo a 10 positivo un tampone su 30 mentre nella fase acuta il rapporto era 1 a 4 in terapia intensiva ancora due pazienti a Pesaro e Torrette e allora per giocare bene la nostra partita il nostro secondo tempo soprattutto parliamo ai marchigiani perché questo è il nostro bacino allora vediamo quali sono quali sono le cinque cosa le ripetiamo le cinque cose più importanti le armi per scongiurare la seconda ondata siamo sul corriere sul resto del carlino allora prima cosa mascherine che fanno questo effetto barriere in attesa di un vaccino specifico le mascherine sono una delle protezioni fondamentali capaci di azzerare il rischio contagi l'effetto barriera contro il SARS-CoV-2 attenua la carica virale attenua la carica virale la concentrazione di virus dispersi dunque nell'aria questo fenomeno potrebbe rimanere mimare una vaccinazione nel senso che quando un numero estremamente esiguo piccolo di particelle virali arriva a lambire le mucose delle vie respiratorie si può innescare una infezione senza sintomi senza malattia capace di attivare dunque le difese naturali le mascherine quelle chirurgiche proteggono a patto che le indossino tutti basta che un infetto vada in giro a volto scoperto un infetto vada in giro a volto scoperto ed è un problema la seconda cosa da fare distanze distanza fisica tra persone limitazioni negli spostamenti sono misure a volte drastiche che hanno dimostrato però una loro validità nel prevenire le moltiplicazioni dei focolai questo vale lo ripetiamo anche all'interno delle famiglie quindi distanze a volte a volte può sembrare strano può sembrare eccessivo può sembrare a volte anche ridicolo chiedere ad un familiare ad un figlio ad una figlia amore stammi un po lontano stai un po più in là magari mettiti sulla oppure vado io sulla sedia tu stai sul divano sì può sembrare strano ma è bene è bene distanziarsi anche all'interno delle famiglie perché adesso i ragazzi vanno a scuola perché il papà e la mamma vanno a lavorare insomma bisogna mantenere le distanze anche dentro la famiglia tamponi decisivi in aeroporto l'esame come le altre precauzioni punta a limitare ovviamente la circolazione del virus poi l'igiene personale questo è importante a mucchina cioè gel igienizzanti alcol sapone gel disinfettante per le mani e altri detergenti sono definite vere e proprie arme di prevenzione dei contagi un gel alcolico ha il potere di abbattere la carica virale microbica che può passare di mano in mano toccando oggetti di uso comune nei locali pubblici nelle scuole nei luoghi di lavoro negli spazi recreativi o sui mezzi di trasporto altra misura igienica a favorire il ricambio dell'aria spalancando spesso le finestre negli ambienti chiusi frequentati da più persone anche in momenti diversi poi vaccinarsi come quinta e ultima arma per scongiurare la seconda ondata è quella della vaccinazione ora in attesa di un vaccino specifico è il momento di approfittare degli altri vaccini che ci proteggono ad esempio dall'influenza dalla polmonite da pneumococco dalla meningite da altre malattie eccetera virus positivi sempre più su da fine giugno questa è la pagina di pesero del carlino e rintracciare i contatti è un'impresa nelle marche l'allarme è della federazione dei medici internisti troppe persone ecco qui il problema troppe persone refrattarie alle regole quelle che abbiamo detto appena due secondi fa ci sono persone che purtroppo a queste regole sono allergiche ecco sono allergiche a queste regole quindi fanno un po modo loro ma poi chiaramente mettono un po rischio e pericolo tutti quanti contagi che sono aumentati nelle marche di 30 volte ieri va detto a pesero non ci sono stati contagi però questo dice poco è un dato che dice poco perché l'altro giorno quindi domenica sono stati effettuati pochi tamponi credo nemmeno 300 tamponi quindi è chiaro che i positivi scoperti sono sono pochi zero addirittura nella provincia di pesero urbino vedremo i dati di oggi che arriveranno tra qualche ora alle 9 del mattino andiamo sulla pagina di pesero primo piano del corriere adriatico vaccini anti influenzali partita la consegna ai medici e pediatri consegnate all'area vasta 1 quasi 39 mila dosi di siero su un fabbisogno di 95 mila saranno i professionisti interessati a decidere le priorità per i bambini e per gli anziani e poi dal ancora dal dei giornali sempre legato al covid c'è questa notizia che pubblica il carlino di questa mattina premiata da mattarello il presidente della repubblica ignorata da ricci sindaco di pesero la lettera di rosa maria lucchetti nominata cavaliere per il suo gesto di solidarietà durante il covid lei si aspettava un gesto del dal sindaco gesto che non è arrivato aveva donato parte del suo stipendio ai sanitari costretti a restare in ospedale questa è la pagina invece la numero 11 del corriere adriatico ultimatum per il premio covid soldi in due giorni oppure sarà sciopero i sindacati dell'area vasta chiedono garanzie contro lavoratori serie a e serie b a marche nord somme pagate questa è invece la pagina 9 del resto del carlino la cambiamo pagina dunque e parliamo di toto giunta abbiamo eletto il nuovo governatore adesso si sta lavorando in queste ore frenetiche in questi giorni frenetici per comporre la giunta quindi gli assessori e il nuovo governatore acquaroli ha dato il via alle consultazioni tra i partiti in poll c'è carloni castelli e biondi nomi che già abbiamo dato anche ieri la presidenza forse andrà a ciccioli e quindi si sta lavorando anche se c'è il problema delle quote rosa sono soltanto tre se non ricordo male le donne che sono state elette e qui adesso c'è il problema anche di inserire in giunta anche una figura femminile ora la fotografia tutta pagina sul resto del carlino di oggi di vlado borozan che direttore generale della vis pesaro parliamo di calcio che è stato colpito da un arresto cardiaco l'altra sera mentre era allo stadio a pesaro adesso parla dall'ospedale dice sento la vostra vicinanza non ho la forza per ricordare grazie e forza ragazzi ora il cammino di vlado è in salita ma il dirigente della vis non molla come nel suo carattere dirigente biancorosso colpito sabato scorso da un arresto cardiaco che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se non fosse stato per il tempestivo e providenziale intervento del responsabile sanitario della vis vittorio gemellare del massaggiatore davide patrignani che davvero gli hanno salvato la vita borozan è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord ma al telefono ci tiene a mandare il suo messaggio ai tifosi che lo hanno riempito di affetto dice voglio ringraziare tutti e poi dice sì perché sto andando verrò trasferito immediatamente all'ospedale di Padova dove era in cura da tempo per i suoi problemi al cuore che trascina fin da quando giocava a calcio insomma da ragazzino e a Padova Borozan dovrà subire un trapianto di cuore in un centro tra i più importanti in Italia e in Europa un intervento che naturalmente come scrive Davide Eusebi questa mattina sul Carlino richiederà un periodo di convalescenza importante intanto lo striscione vedete allo stadio Benelli e tanti messaggi per fare coraggio al direttore anche il Corriere Adriatico sulla pagina dello Sport pubblica intanto questa foto dei primi istanti in cui è stato soccorso dai medici, dai sanitari allo stadio Benelli Borozan ora a Padova per il trapianto di cuore ringrazio per l'affetto il titolo, il DG della Vispesoro in ospedale dopo l'infarto avuto al Benelli durante la partita mando un grande abbraccio a tutti, specie al dottor Gemellaro e a Patrignani il boss dell'Andrangheta comprava terreni da noi la DDA di Reggio Calabria sequestra un appezzamento di terreno a frontone di proprietà di un arrestato per riciclaggio le indagini della nostra mobile, il personaggio Domenico Laurendi lo avrebbe fatto per ripulire capitali, idem per un appartamento acquistato a Fabriano si allunga la mano dell'Andrangheta, sequestrato terreno al figlio del boss titolo del Corriere, maxi operazione della mobile di Reggio Calabria con nove arresti, sigilli ad un appezzamento edificabile a frontone nove persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Calabria che ha eseguito un'ordinanza di custodia cortelare messa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria sotto chiave beni per due milioni di euro i sequestri di imprese, società, bar, ristoranti e beni immobili sono stati eseguiti anche in provincia di Ancona, Pesaro e Urbino gli arrestati sono accusati a vero titolo di concorso esterno in associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori ed autoreciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa la cosca si tratta di capi elementi di vertice presta nome della cosca di Santa Eufemia da Spromonte dipendente dalla famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli imperante anche a San Procopio, Cosoleto, Delia Nuova e nelle zone limitrofe truffa del giubbotto, un anziano si fa giustizia a Fano un settantenne adescato nel parcheggio del Brico Center il venditore riesce a sfilargli 500 euro ma lui torna con la polizia il giorno dopo e lo incastra è un napoletano di 31 anni, truffa la gente vendendo giubbotti di pelle preferisce gli anziani che a volte ci cascono e a cui soprattutto è facile sfilare dalle mani i soldi dopo che loro fanno il prelievo al banco ma come è avvenuto in un mattino di pochi giorni fa nel parcheggio appunto del Brico Center come scrive Alessandro Mazzanti il napoletano, questo napoletano ha avvicinato un settantenne fanese gli ha offerto un giubbotto all'inizio è molto cortese funziona sempre così la truffa inizia con modi gentili, inizia con un sorriso inizia con uno sguardo tenero te lo vendo, dimmi la cifra te, non ti preoccupare a me va bene, dai l'anziano gli offre 90 euro quando l'altro capisce che può forzare la trattativa gli dice che quei 90 euro sono pochi il giubbotto vale di più e lo convince a fare un prelievo nel vicino banco ovviamente anche la posizione delle truffe vengono studiate quindi solitamente il truffatore sceglie un posto dove c'è gente ma soprattutto dove c'è un bancomat a due passi ed è stato così vicino al Brico fatti 20 metri c'è un bancomat l'anziano è andato lì ha fatto un bancomat con un'azione fulminia è riuscito a far digitare una cifra che non era 100 euro ma molto di più e poi è riuscito a strappargli questi soldi e a fuggire però l'anziano ha capito della truffa insomma si è reso conto di essere stato truffato tutto quanto il giorno dopo è tornato e il giorno dopo ha trovato il truffatore sempre allo stesso parcheggio sempre davanti al Brico però questa volta ha chiamato la polizia la polizia diretta da Stefano Seretti è riuscita a mettere a individuare il truffatore e in qualche modo a denunciarlo una quindicenne chiusa in casa siamo sempre sul Carlino chiusa in casa dei genitori lei chiama i carabinieri e i pompieri la liberano l'altra notizia che troverete sul giornale di oggi la giovane è stata affidata all'assistente sociale per capire il motivo di questo conflitto ancora truffe parliamo di altre truffe questa volta è stata derubata un'anziana siamo sulla cronaca di Mondolfo sul Corriere Adriatico un'anziana che è stata derubata dei risparmi da un falso tecnico del gas è stata derubata in casa quindi ancora peggio di prima mattina da un finto tecnico del gas che scappa via con un complice a bordo di una seat è successo sabato scorso nel giorno della festa di Santa Giustina in via dello Sport alla periferia della città vittima una signora di 89 anni tornata ad abitare a Mondolfo vicino a casa della figlia e della sorella dopo una gran parte della vita trascorsa a Comola pensionata vive in casa da sola molto autonoma in grado di muoversi di badare insomma le faccende domestiche però di fronte a questa persona anche qui immaginiamo insomma con modi gentili si è dichiarato tecnico del gas è riuscito a entrare dentro e poi dentro a portare via i risparmi di questa donna lo diciamo da 15 anni lo ribadiamo anche questa mattina tutti gli anziani che ci ascoltano e che siamo so che siete in tanti non fate entrare nessuno dentro la vostra abitazione che non siano i vostri figli i vostri parenti che conoscete perfettamente tutti gli altri teneteli fuori qualsiasi cosa vi chiedano qualsiasi cosa vi dicano andiamo sulla pagina di Fano l'estate dei divieti conquista 70.000 persone positivo bilancio della stagione estiva nonostante appunto le limitazioni dovute al Covid ben 200 attività hanno richiesto il suolo pubblico creando un villaggio turistico di fatto a cielo aperto e dunque è stata un po' una sorpresa come dire poteva andare peggio lo abbiamo detto anche ieri nel telegiornale in realtà poi è andata bene sorpresa anche per l'anfiteatro Reichstadt 2.000 presenze in soli 6 concerti beh c'era voglia anche un po' no? vista un po' la situazione arrivavamo da una primavera devastante quindi l'estate alla fine insomma l'abbiamo trascorsa bastava accendere un po' di musica una radio che già era festa in qualche modo al campus con 20 grammi di erba invece siamo a Senigallia denunciato un pusher di 18 anni uno spacciatore di droga di 18 anni è un ex studente fermato dalla polizia vicino alle scuole di via campana scusate capanna aveva un sacchetto di marijuana poi guardate questa fotografia scarichi abusivi nel nevola morì a di pesci nel torrente a Corinaldo la polizia provinciale denuncia i responsabili andiamo sulla pagina di Pesaro pian del bruscolo del Carlino per questa notizia che riguarda un traffico di monete antiche dove un anziano è finito nei guai l'uomo è un pesarese di 81 anni ed è stato scovato dai carabinieri di Saludecio durante un mercatino a San Giovanni in Marignano mentre a Vallefoglia nel prossimo fine settimana c'è la fiera di San Michele Arcangelo secondo atto convegni musica e divertimento e adesso dal Corriere la questione la vicenda della dichiarazione di Gandini che è il presidente della federazione basket italiana che ha detto ha usato questa frase qui ve la leggo non torneremo a Pesaro aveva dichiarato Gandini alla gazzetta dello sport prenderemo una decisione nelle prossime settimane pensiamo ad una location cioè a un posto prestigioso capiente e centrale per il movimento ora capite che il sindaco di Pesaro che oltre ad essere il sindaco è anche un tifoso di basket quando ha letto sulla gazzetta dello sport queste dichiarazioni insomma si è un po' agitato e quindi non gliel'ha mandata a dire e ha detto Gandini è un marziano e ha usato parole irrispettose nei confronti della città abbiamo un impianto straordinario riferendosi al palazzetto dello sport e dal 2022 riproporremo la nostra candidatura dunque a queste parole insomma non l'ha presa molto bene il sindaco Ricci per i cavalcaviere stiamo sulle pagine pesaresi per il cavalcavia e i sottopassi via la campagna d'autunno appaltato il primo stralcio per i lavori del ponte di via Montegrappa sono pronti 170 mila euro mancano all'appello però la sigillatura per via Lamarca e la sistemazione di Borgo Santa Maria demolita l'ex sede di Renco ora si ricomincia dalle case ripristinata la circolazione di Viale Venezia i tempi del cantiere sono descritti in questo articolo sul Corriere poi tratto si legata con un barone per la sicurezza si attende ANAS previsto un incontro con i tecnici si moltiplicano le segnalazioni e soprattutto segnalazioni di pericoli una studentessa universitaria siamo sulle colonne di Urbino del Carlino una studentessa positiva al virus scatta l'allarme la macchina per la sicurezza è subito partita tampone per lei e per chi è stato a contatto a parte la giovane tutti sono risultati negativi ripartono da domani i test sierologici rapidi e continueranno per monitorare la situazione urbinate mentre il prossimo 8 ottobre una targa ed una via per ricordare il giudice Paolo Cigliola si terrà giovedì 8 ottobre per ricordare questo giudice scomparso il 15 aprile del 2018 a San Lorenzo in campo traffico addio la variante in dirittura d'arrivo San Lorenzo la strada che bypassa il centro storico sarà pronta entro l'anno risolto anche il problema degli allagamenti la statale 424 della Val Cesano attraversa il paese creando smog e rumore sotto invece Raffaello Rossini Vitruvio sponsor di un'associazione di bed and breakfast presentato a Piagge il nuovo sodalizio che vuole promuovere la ricettività turistica è stato presentato all'interno dell'azienda agricola Guerrieri mentre per lo sport in ogni caso il Fano promosso dopo la partita contro il Perugia il dubbio è se a Perugia siano stati due punti persi o uno guadagnato ma la conclusione comunque la stessa cioè che comunque il Fano è promosso è andata bene Traini entusiasta della squadra ha la mentalità che voglio io e ora la renderemo anche più forte intanto nella fotografia la tria de Granata in tribuna Bernardini Fattò e Traini Bernardini Fattò Fidani e Traini la nuova dirigenza dopo quella di Gabellini e poi sopra invece il gol segnato domenica il Curi di Perugia andiamo sull'altra pagina di Sport VL stesa solo a caso degli episodi il DS Cioppi e la sconfitta all'esordio con Sassari i tiri liberi e le triple hanno fatto la differenza è stato triste giocare in un palazzetto vuoto perché a Venezia c'era pubblico invece da noi no l'abbiamo già detto per una questione legata alla regione che insomma non ha firmato cose lunghe adesso non possiamo stare perché siamo in chiusura la Lube invece volle decolla a Verona e dimentica la Supercoppa tutto facile nell'esordio in campionato dopo la sconfitta contro Perugia Verona 0 Lube Civitanova 3 questo è il risultato finale e dunque anche per la pallavolo marchigiana insomma le cose l'esordio è stato buono a differenza del basket pesarese ma insomma abbiamo visto quali sono le ragioni intanto grazie per averci seguito la rassegna torna domani mattina alle 7.30 vi ricordo alle 20.30 di questa sera invece il telegiornale Occhio alla Notizia vi ricordo anche il numero di telefono che vedete in questo momento in sovraimpressione è il numero che dovete memorizzare sul vostro cellulare per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti